Denunciare le carenze della sanità pubblica isolana, il conseguente rischio di ridimensionamento o chiusura di importanti servizi sanitari come quello del punto di prelievo di sangue per i non ricoverati. Questi motivi che hanno spinto gli attivisti del partito marxista-leninista a dare vita a una protesta sull'isola di Ischia all'esterno dell'ospedale Anna Rizzoli di L'Acquameno, struttura che rischia la chiusura di personale infermieristico e medico. Al momento mancano in pianta organica 12 infermieri non essendo stati mai rimpiazzato chi è andato in pensione. La carenza di personale manda in affanno anche gli altri reparti a partire da quelli della chirurgia e ginecologia. Gli manifestanti rappresentati dal dirigente Gennaro Sravio hanno rivendicato inoltre il diritto degli isolani ad avere sull'isola la PEC-TAC e la radioterapia per i pazienti oncologici e un'unità coronarica. Esprimiamo soddisfazione per la riuscita del presidio e continueremo a batterci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi affinché si metta finalmente fine alla vergognosa carenza di personale medico ed infermieristico presso l'ospedale Anna Rizzoli di L'Acquameno, affinché sull'isola ci sia un'unità coronarica, affinché i pazienti oncologici abbiano qui la possibilità di sottoporsi alla PEC-TAC e alla radioterapia. E' questo per garantire ai massimi livelli il pieno diritto alla salute di tutti i cittadini ischitani e dei milioni di turisti che ogni anno scelgono la nostra isola per venire a trascorrervi le vacanze.